Ufficialmente la stagione agonistica con la prima giornata del primo turno di Coppa Italia. 32 le compagini impegnate, suddivise in 8 gironi, composti ognuno da 4 squadre. Per il girone A, al Colalillo i padroni di casa del Boiano affrontano l'Aurora Capriatese in un match sulla carta favorevole ai locali, mentre nell'altro incontro si preannuncia più equilibrio tra lo Spinete e l'Olimpia Riccia di Mister Cordone. Passando al girone B, si affrontano Roseto e Comprensorio Vairano in un match molto equilibrato, mentre Pirotecnico si preannuncia Trivento del neoacquisto Guglielmi e l'ambizioso città di Termoli. Girone C, impegnate al Vita Antonio, Ripalimosani e i Bianconeri del Venafro, un match sulla carta a favore degli ospiti, ma con i padroni di casa che se la giocheranno a viso aperto. Nell'altra partita, al Di Placito, il Rocca Sicura attende la Don Key Sagnone, pronostico favorevole per i padroni di casa. Girone D, qui tutto fermo per ora, rinviate a data da destinarsi sia a Biccari Real Guionesi che Pietra Montecorvino Campobasso 19-19. Passiamo al gruppo E. Il favoritissimo Vasso Girardi è atteso alla trasferta di Castel di Sangro, partita nettamente a favore degli ospiti, mentre a Piedimonte Matese la FVP ospita l'Aurora Aururi. Partita dall'esito incerto. Siamo al gruppo F. Al Venditti, i padroni di casa Nero Verdi affrontano il 4 Torri Chieuti. Questo match è in programma mercoledì 29 agosto, con calcio d'inizio alle ore 17. Regolarmente in campo domani il Termoli 2016, che al Cannarsa ospita il Treppini Matese, pronostico orientato verso il 2. Girone G, nell'unico anticipo del turno, tra poco in campo il nuovo Acli Campobasso Campo di Pietra, che ospita la Cliternina, mentre a San Bartolomeo in Galdo la polisportiva Fortore se la vedrà contro il Sesto Campano, squadra esperta che da anni disputa il campionato di eccellenza. Nell'ultimo girone, quello H, la Santeliana di Mister Pino Marrone è attesa allo spinello di Allife, in una partita non facile. Nell'altro match, al comunale di Baranello, i padroni di casa ospitano l'ambiziosa frentania del bomber Giuseppe Mucci. Ricordiamo infine che tutte le partite avranno inizio alle ore 16.